La mia vita è sempre diversa La mia giornata piena di emozioni Il mio lavoro un po' stressante Ma la mia pelle è perfetta, sempre Dalla ricerca bioscientifica nasce B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition Il nuovo integratore a base di collagene, acido ialuronico, vitamina C, luteina e tè bianco che nutre e idrata la pelle dall'interno Il collagene e l'acido ialuronico, una volta ingeriti, vengono frammentati dal processo digestivo e le molecole arrivano alla pelle, alle unghie, ai capelli e alle articolazioni Il complesso multivitaminico ANC, Active Nutrition Complex, fornisce all'organismo un complesso nutrizionale estremamente attivo biodisponibile e perfettamente tollerato B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition agisce nel derma profondo rafforza la funzione protettiva del collagene e contribuisce alla naturale produzione di acido ialuronico e elastina della pelle con un chiaro effetto anti-age B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition va consumato una volta al giorno, entro 2-3 ore dalla sua preparazione Assunto con regolarità, B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition è in grado di integrare, in maniera perfetta, tutte le sostanze naturali necessarie al perfetto funzionamento della cute Un fedele alleato per restituire funzione ed elasticità alla pelle proteggendola dai danni causati dallo stress della vita moderna e dal naturale processo di invecchiamento Il mio segreto? Bevo B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition Ogni giorno funziona B-Filler Beauty Drink Skin Nutrition è anche for men Una nuova formula studiata per le esigenze specifiche dell'uomo